Cado non si vieni niente, ma giurino di me, come te lasse chiudere. Si cerca scuosa accente, ca ferme non fitto. Passione, passione verna mia, che faccia la smilia, pur in tesora mi faccia vedere. Cado non si vieni niente, ma giurino di me, come te lasse chiudere. Cado non si vieni niente, ma giurino di me, come te lasse chiudere. Cado non si vieni niente, ma giurino di me. Cado non si vieni niente, ma giurino di me, come te lasse chiudere. Cado non si vieni niente, ma giurino di me, come te lasse chiudere. Cado non si vieni niente, ma giurino di me. Cado non si vieni niente, ma giurino di me, come te lasse chiudere. Cado non si vieni niente, ma giurino di me. Cado non si vieni niente, ma giurino di me. Cado non si vieni niente, ma giurino di me. Cado non si vieni niente, ma giurino di me. Con te Vensi a te La carità Stando a te La carità La carità C'è l' которого Il History La carità BIN Vita, vita mia Non mi vuoi, non mi vuoi passare Non mi vuoi, è che la lunga Resta tu me, tu me Un applauso per il nostro tecnico, bene, grazie Molto, la famiglia, grazie Ciao a tutti, buon proseguimento di serata, ciao Grazie a tutti perché tu sei sempre stata accompagnata da un bando giovane Che io vorrei, se mi segui sul palco, il signor Lello Il signor Lello, qua 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 Forza, forza Un applauso Perché come vi ho detto prima A parte che Raffaele e Lello pure loro sono sempre presenti Ma gli assetti giustificati In questa kermesse che è stata in realtà piena di emozioni Perché ci siamo conosciuti, il signor Lello ha portato sempre l'allegria Si vuol dire positività Dietro le quinte assolutamente sì Quando il nervoso ispirava le stelle Arrivava a noi con le sue battute Che riuscivano sempre alle un po' gli animi Quindi io voglio ringraziare entrambi Siete stati dei compagni di avventure veramente formidabili Siete delle bellissime persone Tu sei bravissima Ma anche lui è bravissimo Anche perché c'è da dire che tutte le canzioni che voi ascoltate Raffaele che canta eccetera Comunque come direttore artistico possiamo dire Cioè il signor Lello No, diciamo che io lavoro con lui e sembra strana una cosa Da 31 anni Per cui molti quando mi chiedono Ma come avete fatto? Vabbè, che noi andiamo anche a Raffaele Finisce la cosa Io me ne vado a casa mia E lui se ne va dalla sua famiglia Tu stasera mi hai salvato Perché tutto il viaggio vuoi? Grazie Io lo ringrazio perché sarò il mio talent scout 31 anni fa mi ha scoperto Mi ha messo su questa bellissima strada Che era il mio sogno di una vita E mi ha fatto realizzare tante belle cose In merito anche su Grazie Lello Lombardi Grazie Lario per avermi tolto Dall'essere vicino Perché a volte quando ci stanno finendo Sono questi scopri Scusi, ma essi Il problema sapete qual è? E quando andiamo a fare per esempio una performance Andiamo a fare qualche situazione Qualche costo Qualche esibizio Tutti quanti vicino alla cantante Bravo, bravo Ma come sei bravo? Ma scusate Ma il visore Capisci Cioè ma che accompagna Stato a segnalare un po' Come una forza? No scusate Ma il problema è pure E' un peggio Questi sono 31 anni E ne facciamo sempre a taglio Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Ciao Grazie a voi Che siete stati I quadattoniisti Di questa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.